Forza! Forza! Dentro! Forza! Dobbiamo andarcene da questa scuola. Ora! Deve esserci un modo per scendere in strada. Ok. Andiamo. Andiamo! Dobbiamo tornare in strada. 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 Ok, non c'è nessuno. Sì. Sembra sicuro. Bene. Vieni a vedere. È una di loro. Che si fotta allora. Leggi la lettera. Jordan. Isaac ci ha segnati per due settimane intere allo studio tv. Iene avvistate in zona. Questa è per farti compagnia, Leah. Lo studio tv. Pensi sia ancora lì? Non resta che scoprirlo. Allora... È vicino a questi palazzi alti. Di là. Ok. Prendiamo Leah. Cosa. Perfetto.